...esperienziale, che è quello che oggi va di moda e che secondo me può essere... Formazione, consulenza, promozione ma anche innovazione e investimenti, sono più di dieci bandi presentati e centinaia le presenze registrate nelle tappe dedicate ai dialoghi con i territori per il PSR Marche, il programma di sviluppo rurale che offre diverse opportunità alle imprese in base alle varie esigenze. Il confronto avviato dalla Regione, come spiegato dal Vicepresidente Mirko Carloni, assessore all'agricoltura, ha l'obiettivo di illustrare queste misure in modo chiaro e trasparente per far comprendere agli imprenditori quali sono le risorse a disposizione per i loro piani industriali. Il ciclo di incontri è proseguito nei giorni scorsi nel comune di Cartoceto. Vorremmo fortemente che ci sia un trasferimento tecnologico e anche un miglioramento delle capacità produttive nelle imprese agricole, perché? Perché vorremmo che si rafforzassero, vorremmo che diventassero sempre più competitive e in qualche modo anche noi come Regione, prendendo spunto anche dagli errori del passato fatti con i precedenti PSR, si possa migliorare la capacità di investire e di migliorare anche il reddito delle aziende. La prima misura messa in campo, ha aggiunto Carloni, è la 6-1, dedicata al ricambio generazionale che rappresenta un'occasione per i giovani agricoltori. Un grande obiettivo, cioè quello di fare in modo che i genitori passino le aziende e i figli e che sempre più giovani si avvicinino al mondo dell'impresa agricola per far sì che quella transizione, quella biodiversità, quella produzione di cibo rimanga intatta. Abbiamo anche presentato, poi ha aggiunto Lorenzo Bisogni, sia i bandi aperti che quelli di prossima emissione, oltre alle anticipazioni sulla programmazione 2023-2027. Al centro dell'attenzione è la competitività dell'impresa attraverso la filiera, quindi la commercializzazione dei prodotti da parte di gruppi di agricoltori che cercano di ottenere dal mercato maggiore peso contrattuale nei confronti del trasformatore o della grande distribuzione. Parliamo di filiere di livello regionale, quindi con dotazioni anche del bando abbastanza importanti. Arriviamo dai 25 ai 30 milioni di euro tra tutte le misure, perché poi i soggetti promotori della filiera decideranno come meglio impiegare le risorse o per investire nell'azienda agricole o nell'azienda di trasformazione, oppure fare promozione e quant'altro. Insomma, quindi c'è un pacchetto di misure tra cui scegliere. Come stanno rispondendo gli imprenditori a questi bandi? Stanno rispondendo bene per quelli che abbiamo già aperto. Infatti sulla misura di investimento nell'azienda agricole, a fronte di 30 milioni che avevamo messo come dotazione, ne sono arrivati il doppio di domande. e quindi dovremo un po' trovare risorse aggiuntive per cercare di accontentare il maggior numero di imprese. Questo bando uscirà entro giugno, quindi speriamo che anche qui ci sia una buona adesione per favorire proprio la competitività delle imprese agricole. L'ultimo appuntamento, promosso dalla Regione e dal PSR Mar, che si svolgerà domani alle 17.30 a Sant'Angelo Invado. L'incontro si focalizzerà sui temi legati alle tartufaie e alla filiera del legno e dell'energia. Grazie a tutti.